Luce Maxima E' facile da raggiungere Vedo per scontato che voi sappiate cosa sto andando a fare qui a Milano Perché è scritto nel titolo e quindi non ho detto niente, cioè ho iniziato il video così Oggi proverò in superanteprima Hogwarts Legacy Sono veramente tanto, tanto i night perché io amo, adoro, ci sto proprio sotto a Harry Potter Come potete vedere, quindi non vedo l'ora di provarlo Devo arrivare a Tarta Romana, sono circa appunto 15 minuti di metro Ormai vengo a Milano per lavoro da anni e quindi la conosco meglio della mia città Probabilmente soprattutto per muovermi con i mezzi So abbastanza bene dove devo andare Sono arrivata in questo posto bellissimo e c'era l'Emilina carina C'era l'Emilina che mi aspettava, carina Guardate qua, madonna madonna Mi viene da piangere, non lo so perché ma mi viene da piangere Io lo adoro Harry Potter e quindi mi viene da piangere solo al pensiero che giocherò in anteprima il gioco Allora tolgo il cappottino e finalmente posso sfoggiare il mio outfit meraviglioso Dai Emily quanto è utile, mamma mia Emily Ciarpetta Guarda Attenzione Allora la sala è questa, è grandissima come potete notare e ci sarà una piccola presentazione Dopodiché ci faranno provare un'oretta di gameplay, queste sono tutte le postazioni dove si può provare il gioco Guardate chi ci sta, anche qui la Virgi Eccola, è stata una sorpresa bellissima Ciao a tutti Stanno per iniziare la presentazione, piccola presentazione, siamo tutti prontissimi carichelli Allora presentazione è finita, adesso è tempo di giocare, vedrete qualche scena di me che magari gioco e poi insomma tutto il resto Sono abbastanza fissata con la customizzazione dei personaggi Ci metto un botto, cercherò di essere più cialere possibile ma ci metto veramente tantissimo perché sono fissata Questo gioco diciamo che un pochettino mi asseconda, un po' troppo perché ci sono tantissime possibilità di scelta di qualsiasi dettaglio Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Oh, 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 oh. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se Sebastian ti ha invitato. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Pelli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Deve averci fatto male. No. Che ci sessi? Prenderle a mano. Compringo! Per caso... Hai commesso un errore. Nervioso! Grattaccio! Nervioso! Compringo! Nervioso! Che avrete un po' Fatte. Sempre! Perfetto! Invecchio! Nervioso! Come si sente? Ripeto! Così ti copri i rivi. Scena patetica! Compringo! Nervioso! Compringo! Lervioso! Svegliati! Com'è stato? Nervioso! Nervioso! Sì! E così sono dieci punti! Riportati al serrato! Lervioso! Per me, runnino! Ma che succede qui? Sembra che debbano difendere il ministro della magia in persona. C'è solo un modo per scoprirlo. Repare! In nome di Mernino! Cosa? Sono... Draghi! 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 È un'arena di combattimento per Draghi! La sala dell'ospinato! Ora il nome ha finalmente senso! E la segretezza! Visto quanta gente c'è qui, non mi stupisce che ci fossero così tanti bracconieri in giro per Oswald. Bracconi e varie sconnessi. Come possono divertirsi così? Sì, i centauri hanno tutto il diritto di essere disgustati dalla stirpe magica. Devono esserci altri draghi qui. I bracconieri sono troppo ingordi per avere solo due draghi in un'arena. Approfittiamo del fatto che tutti gli occhi sono sul combattimento per ispezionare in giro. Ma con discrezione, nessuno deve accorgersi di Dè. Non c'è qui, non c'è qui. No! Hai notizie della tua famiglia? Sei riuscito a convincere i tuoi fratelli? Ci uniranno la nostra causa? Dicono che ci spingiamo troppo oltre e che la violenza non ci farà ottenere nulla. Io dico che se ogni singolo mago finirà a pezzetti, la violenza è mia. Protego! Nerviosa! Smettila! Constringo! Depulso! Que si non viene lo frio! Che si non viene lo frio! Arresto un momento! Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so! Mori! Bingo! Filippe! No! Che mi fa! Ah! Che! 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 che i bracconieri devono essere in combu. Poppy, dietro di te sta accadendo qualcosa. Che succede laggiù? L'avranno appena catturata. Si sta ribellando con tutte le sue forze. Ma è una lotta impare fin tanto che è incapenata a quel modo. Diamo le mani forte, che dice? Guarda, hanno un uovo di drago. Dall'aspetto direi il nero delle ebridi. Non possiamo lasciarlo qui, chissà cosa ne farebbero. Allo, Mora? Bene, ho l'uovo. Ci sei? L'elemento sorpresa ci regalerà solo qualche secondo. Sfruttiamoli al massimo. Attenzione! Rorra, tutto vuole vivo! Non è come... All'inizio! Non è come... Si, puoi. Non è come... Sì, non è vero. Ehi, ti stavamo proprio cercando e hai portato compagnia. Ti sono andato troppo pesante. Ah, tagli il dico. E questo sarebbe il tuo atto nel damasco. Vincendi! Le bucce! Ecco, non è uno scontro reale. Aspetta un momento! Aspetta un momento, hai avuto la tua dose! Vincendi! Le bucce, non ripeto! Vincendi! Vincendi! Appena finito di giocare, top, meraviglioso, veramente, senza parole. Purtroppo, ovviamente, essendo una demo, non abbiamo potuto trovare, insomma, troppo, giustamente. Quindi io non so come farò fino al 10 di febbraio, fino all'uscita, veramente. E non vedo l'ora che esca, perché me lo giocherò veramente tutto, tutto d'un fiato, pazzesco. Niente, fatemi sapere sui commenti che cosa ne pensate di quel pochino che avete visto. E niente, ricordatevi di iscrivervi al canale, se vi piacciono i miei contenuti. A la prossima! Mouah! Grazie a tutti.